ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale sono ancora io sono ancora maxi e questo è il terzo video di oggi è il colore della settimana diciamo non diciamo è il colore della settimana e basta senza diciamo questo colore lo potrete trovare nella mia crew secondaria andiamo a vedere questo colore ragazzina un colore molto 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 bello molto acceso che qualcuno mi dirà ma questo è c'è anche lo santos custom cazzate varie però no non è così e non è simile a nessuno non è simile ma non perché l'ho messo io perché comunque mi è capitato di vedere raramente questo colore è un colore come ho detto fluorescente ragazzi questo colore rimarrà in crew secondaria per una settimana quindi avrete tutto il tempo per poterlo mettere per poter entrare in crew anche perché la crew secondaria è libera è solamente per i colori ragazzi quindi non richiede alcun impegno non richiede che siate attivi quando vi va entrare in crew cambiate il colore mettete il colore se vi piace e poi uscite senza problemi allora avete visto il colore secondario adesso non so come metterlo se metterlo come colore primario o come colore secondario questo colore secondario non mi piace molto manterrò il viola e lo metterò come colore primario la voglio fare il viola e questo verde fluorescente ragazzi guardate bene non è un verde lime o il solito verde lime che si mette è una tonalità di verde molto molto accesa adesso andremo a vedere alla luce del sole questo colore particolare anche il fumo è molto particolare io adesso ce l'ho viola il fumo sotto quest'auto però calcolate che il fumo è acceso come come la macchina non l'ho cambiato perché preferisco tenerlo viola però è molto bello è molto bello quindi come ho già detto lo troverete in crew secondaria cosa dire di questo colore nient'altro ragazzi nient'altro niente ragazzi in questo periodo ho fatto pochissimi video perché ho avuto un mese un pochino pieno quindi diciamo ci sono stati pochissimi video adesso riprenderò a fare video come si faceva una volta speriamo giornalmente di tirare fuori questi tre o quattro video al giorno che sarebbe una buona cosa e niente continueremo a fare insieme per chi vorrà stare insieme finalmente partirà questa cosa delle gare malate anche perché diciamo sono diventato anche membro della crew dei creatori di contenuti quindi potrò comunque trovare parecchi contenuti molto belli in quella crew ragazzi lascerò il link in descrizione della mia crew secondaria per questo colore per questo video è tutto un saluto da maxi al prossimo video ciao a tutti ragazzi